12 ottobre oggi un marziano è sceso con la sua aeronave a villa borghese nel prato del galoppatoio cercherò di mantenere scrivendo queste note la calma che ho interamente perduta all'annunzio dell'incredibile vento di reprimere l'ansia che subito mi ha spinto nelle strade per mescolarmi alla folla tutta la popolazione della periferia si è riversata al centro della città e ostacola ogni traffico devo dire che la gioia la curiosità è mista in tutti ad una speranza che poteva sembrare assurda ieri e che di ora in ora si va invece facendo più viva la speranza che tutto cambierà roma ha preso subito l'aspetto sbracato e casalingo delle grandi occasioni c'è nell'aria qualcosa che ricorda il 25 luglio del 1943 la stessa gente che si abbraccia le stesse vecchie popolane che passano dirette e immaginarie barricate inneggiando la libertà gli stessi ufficiali di complemento che hanno indossato la divisa convinti di poter in quell'arnese farsi largo e raggiungere il galoppatoio che è invece guardato da carri armati della polizia e da due reggimenti in assetto di guerra già a piazza fiume non ci si muove più la folla pressata ondeggiante aspetta canta grida improvvisa danze ho visto i primi ubriachi i tetti degli autobus fermi questi nelle strade come navi sorprese dall'inverno in un mare glaciale brulicano di giovani e di bambini che urlano agitando grandi bandiere sporche i negozi hanno abbassato le saracinesche a tratti arriva portato dal vento un lontano scoppio di applausi che riaccende la curiosità e provoca smandamenti una maggiore e più allegra confusione verso le sette ho incontrato pallido sconvolto dall'emozione il mio amico fellini egli si trovava al pincio quando l'aeronave è discesa e sulle prime ha creduto si trattasse di un'allucinazione quando ha visto gente a correre urlando e ha sentito dalla aeronave gridare secchi ordini in un italiano un po' freddo e scolastico fellini ha capito travolto subito dalla folla e calpestato si è risvegliato senza scarpe la giacca a pezzi ha girato per la villa come un ebete a piedi nudi cercando di trovare un'uscita qualsiasi io ero la prima persona amica che incontrava a pianto abbracciandomi scosso da un'emozione che ben presto si è comunicata anche a me mi ha descritto poi l'aeronave un disco di enormi dimensioni giallo e lucente come un sole e il fruscio indimenticabile il fruscio di un fular di seta al momento di calarsi al suolo e il silenzio che ha seguito quel momento in quel breve attimo ha sentito che un nuovo periodo stava iniziando per l'umanità le prospettive sono mi dice immense e imperscrutabili forse tutto la religione le leggi l'arte e la nostra vita stessa ci apparirà tra qualche tempo illogico e povero se il solitario viaggiatore sceso dall'aeronave è veramente e ormai dopo il comunicato ufficiale sarebbe sciocco dubitarne l'ambasciatore di un altro pianeta dove tutto si conosce del nostro questo è il segno che altrove le cose sono più semplici il fatto che il marziano sia venuto solo dimostra che egli possiede mezzi a noi sconosciuti per difendersi e argomenti tali da mutare radicalmente il nostro sistema di vita e la nostra concezione del mondo al policlinico dove lo accompagna per farsi medicare le ferite ai piedi incontro tra i contusi giovannino russo e carletto mazzarella il primo ha perso gli occhiali e non mi riconosce il secondo ha perso le scarpe e non lo riconosco sono ancora stravolti dalle emozioni prima che la folla si scatenasse nel suo entusiasmo hanno fatto in tempo a vedere il marziano dunque è vero la loro ironia credevano in una mistificazione pubblicitaria è caduta di colpo quando hanno visto scendere il biondo navigatore dall'apparecchio russo lo descrive come un uomo alto di portamento nobile un po malinconico veste comunemente come potrebbe vestire uno svedese ha soggiunto mazzarella ha parlato in perfetto italiano due donne sono svenute quando egli è passato sorridente tra i cordoni della polizia per raggiungere l'auto del prefetto nessuno ha osato avvicinargli si troppo solo un bambino è corso verso di lui la scena che seguita ha strappato grida e lacrime ai presenti il marziano ha parlato al bambino dolcemente carezzandolo niente altro sorrideva ed era stanco mazzarella è particolarmente entusiasta del marziano egli ne deduce che le marziane sono certo migliori delle spagnole e forse anche delle americane spera che il marziano abbia portato con sé i testi poetici della letteratura marziana 13 ottobre il marziano è stato ricevuto dal presidente della repubblica ieri notte verso le due via veneto brulicava di folla come in una mattinata domenicale si formavano capannelli attorno ai fortunati che hanno visto da vicino il marziano le impressioni sono tutte favorevolissime sembra che il marziano conosca molto bene la nostra situazione economica sociale politica è un uomo di maniere semplici ma compitissime non dà molte spiegazioni e non ne chiede nessuna quando gli hanno chiesto perché avesse scelto proprio roma per la sua visita ha sorriso finemente sembra anche che si tratterrà a roma molto tempo forse sei mesi verso le due e mezzo ho incontrato mario pannunzio con il solito gruppo del mondo si parlava del marziano ma con un certo scetticismo che mi ha stupito non si hanno ancora notizie ufficiali ha detto sandro de feo il comunicato è stato smentito al che pannunzio ha soggiunto non ci credo nemmeno se lo vedo alle tre sono uscite le edizioni straordinarie vietate sino allora dalla questura per motivi di ordine pubblico il marziano si chiama kunt a propositi pacifici benché altre aeronavi a suo dire incrocino nella stratosfera il viaggio da marte alla terra non dura più di tre giorni sulle conversazioni in corso tra il marziano e le autorità non si hanno indiscrezioni questo è tutto tornando a casa mi sono fermato a leggere un manifesto di un partito pieno di offese per un altro tutto mi è sembrato di colpo ridicolo ho sentito il bisogno di urlare credo al marziano e credo soprattutto la sua buona fede ero sconvolto e che incontro il vecchietto che guarda le automobili in via sicilia quello che ha il berretto con la scritta journo suisse gli ho dato tutto il denaro che avevo in tasca non molto gli ho baciato le mani scongiurandolo cristianamente di perdonarmi la scena non è apparsa niente affatto strana a due o tre persone che vi hanno assistito e che si sono affrettate a dar soldi al vecchietto a casa sono caduto sul letto e mi sono addormentato di colpo felice e lieve come un bambino si preparano giorni grandi e terribili 14 ottobre le autorità hanno fatto recintare l'aeronave che si potrà dora in poi vedere dietro pagamento di una tassa a favore di certe opere assistenziali cattoliche il marziano ha dato la sua approvazione la tassa è stata fissata in lire 100 per permettere anche alle persone meno abbienti di vedere l'aeronave tuttavia i mutilati di guerra i funzionari del ministero degli interni i giornalisti con tessera possono entrare gratis gli analisti le scuole le comitive possono ottenere uno sconto 15 ottobre camminiamo per roma come formiche impazzite cercando qualche amico a cui comunicare la nostra inebriante felicità ogni cosa ci appare in una nuova dimensione quale il nostro futuro potremo allungare la nostra vita combattere le malattie evitare le guerre dare pane a tutti non si parla d'altro più ancora che nei giorni precedenti sentiamo che qualcosa di nuovo si prepara non è la fine del mondo ma il principio del mondo c'è l'attesa delle varsi del sipario resa più acuta da uno spettacolo che non conosciamo è solo turbata questa attesa dai facili profeti da coloro che l'avevano sempre detto e che ora sono pronti alla nuova prova dai comunisti che hanno già tentato di accaparrarsi il marziano dai fascisti che avanzano il dubbio della razza 18 ottobre sono riuscito finalmente a vedere l'aeronave è impressionante le guardie di polizia sono gentili parlano a bassa voce quasi per farsi perdonare la loro presenza nessuno del resto commette il più piccolo atto irriverente un bambino che ha tentato di scrivere qualcosa col gesso sulla lucida superficie dell'aeronave è stato sculacciato dai genitori anch'io ho toccato come tutti l'aeronave e a quel calore metallico ho sentito una profonda dolcezza mai prima provata sorridevamo io e uno sconosciuto guardandoci e infine ci siamo stretti la mano spinti dallo stesso impulso fraterno né dopo ho sentito vergogna della mia commozione sembra che l'aeronave abbia fatto già due miracoli ma non è provato benché alcune donne abbiano insistito per lasciare a terra delle targhe di marmo con i loro ringraziamenti un impiegato del comune ha già preso l'appalto per le candele ma il ricavato sembra che andrà a beneficio di un'opera uscendo dal ricinto vedo mario soldati e lì seduto sull'erba la cravata slacciata in maniche di camicia e gilet si inghiozzava addirittura sconvolto da quella realtà che era a due passi da noi tutto da capo mi ha detto vedendomi mi ha stretto le mani e ho sentito che la sua emozione era sincera se la fan ha soggiunto poi in francese e ha ripetuto la frase parecchie volte finché tanto io che lui ne abbiamo perso il significato ci guardavamo sbalorditi non sapendo che dirci di più siamo poi andati a bere qualcosa ad uno dei tanti chioschi improvvisati sorti abusivamente nella galoppatoio soldati voleva una gazzosa di quelle che una volta si vendevano nelle fiere con la pallina e ha insistito ma in vano non si fabbricano più dalle nostre considerazioni sul marziano favorevolissime ci ha riscosso il curioso incidente provocato da un giovane ladro che era riuscito a introdursi nell'aeronave riconosciuto da una guardia per uno di quei tipi che rubano nelle auto straniere ha tentato di salvarsi fingendo un attacco epilettico ha un volto opaco sospettoso indurito dal suo lavoro la paura lo rendeva selvaggio 19 ottobre il ricevimento in capidoglio ha avuto dei momenti bellissimi mi dicono io non sono potuto arrivare nemmeno a piazza venezia tanto la folla premeva c'era nell'aria una più calma curiosità che mi è piaciuta tale calma degenerava forse in indifferenza nei conducenti e nei fattorini degli autobus che avevano un aspetto stanco e nervoso bloccati da ore sempre nella speranza che la folla diradasse non abbandonavano i loro veicoli qualche dissennato già se la prendeva col marziano ma che è venuto a fare ha detto un fattorino gli ha risposto un suo compagno vuoi mettere come si sta a roma e come si sta su marte duce staresti su marte manco morto ha replicato il primo poco dopo ripassando ho sentito gli stessi che parlavano di football domenica prossima ci sarà un incontro abbastanza importante al campidoglio il sindaco si è coperto di ridicolo parlando di roma maestra di civiltà ci sono stati dei colpi di tosse la gaffe era ormai irreparabile il sindaco non ha proseguito sull'argomento limitandosi ad elogiare il sistema planetario alla cui scoperta ha contribuito l'italiano galilei con il suo cannocchiale e con gli studi sul sole il marziano sorrideva e un certo momento pare si sia chinato all'orecchio di un cardinale che gli sedeva a fianco per dirgli qualcosa il cardinale ha paternamente sorriso quando gli hanno offerto il diploma di cittadinanza onoraria il marziano ha detto poche parole gli altoparlanti le hanno trasmesse ma non chiaramente la stampa le riporta non è niente di eccezionale forse ci aspettavamo un maggior impegno da parte sua ma bisogna anche tener conto della delicata situazione del marziano che si sente ospite 21 ottobre la prima fotografia del marziano mi dicono è stata venduta la sera stessa del suo arrivo per 3 milioni a una agenzia americana il fortunato fotografo poteva ricavarci di più ma ha ceduto di schianto alla vista dei biglietti di banca la vita dei partiti sembra essersi fermata oggi il marziano ha assistito a una seduta della camera dei deputati gli oratori balbettavano una proposta di legge sull'aumento di certe tariffe doganali è stata approvata all'unanimità e euforicamente i deputati erano quasi tutti vestiti di scuro e si cedevano il passo l'un l'altro con cortese freddezza sembrava mi diceva vittorio gorresio la fine dell'anno scolastico tutti ostentavano di non guardare il marziano ben sapendo che il marziano osservava tutti sembra che il marziano ne abbia riportato una buona impressione 27 ottobre che cosa fa il marziano si attendono novità e si sperano grosse novità per ora i giornali si limitano a informarci sull'impiego del suo tempo verrebbe fatto di notare che partecipa a troppi ricevimenti banchetti e cocktail ma ha pure dei doveri di rappresentanza ed è solo a svolgerli c'è forse una congiura del silenzio sulle sue intenzioni che avrebbe chiaramente espresse alle autorità governative i comunisti già lo dicono benché velatamente si è anche parlato della sua decisione di andarsene e un giornale della sera ha venduto centomila copie dando la notizia poi risultata falsa che il marziano era ripartito si pubblicano ancora molte fotografie del marziano l'aristocrazia però dicono lo avrebbe abbandonato ma sono chiacchiere di caffè inevitabili e già dei loschi bon mot delle atroci freddure vengono ripetute non le riferisco tanto sono umilianti per la razza umana 3 novembre la vita a roma è tornata quasi normale la questura ha ristabilito la vecchia ora per la chiusura dei bar e vasti rastrellamenti vengono operati nelle ore notturne nei parchi pubblici che erano ormai diventati il ritrovo di tutte le coppie sono in preparazione nove film sul marziano uno dei quali con l'attore totò 5 novembre il marziano è stato ricevuto dal papa ne dà la notizia all'osservatore romano senza tuttavia pubblicare fotografie nella sua rubrica nostre informazioni in questa rubrica come noto vengono segnati per ordine di importanza i nomi delle persone che il santo padre ha consentito a ricevere in udienza privata il marziano è tra gli ultimi e così nominato il signor kunt di marte 8 novembre oggi il marziano ha accettato improvvisamente di far parte di una giuria di artisti e di scrittori per l'elezione di miss vie nuove quando gli hanno fatto notare che la giuria era formata di artisti e di scrittori di sinistra il marziano ha mostrato un certo disappunto ma aveva già dato la sua parola la serata si è svolta in un clima di grande letizia e i comunisti non hanno nascosto la loro soddisfazione per questa prima vittoria il marziano seduto tra carlo levi e alberto moravia non ha detto una parola i fotografi lo hanno letteralmente accecato coi loro lampi le beltà in gara sono passate inosservate alberto moravia nervoso ha rotto la sua sedia muovendosi la sera incontro carlo levi con altri amici mi accodo per sentire le sue impressioni sul marziano favorevoli il marziano conosce la questione meridionale non certo quanto levi stesso è un uomo intelligente benché la sua formazione risenta le lacune dell'insegnamento marziano tutto sommato carlo levi ha molta simpatia per il marziano che potrà fare molto se seguirà i suoi consigli gli ha dato dei libri da leggere e tra questi cristo si è fermato a eboli che il marziano conosceva nella edizione americana 19 novembre incontro amerigo bartoli si parla del tempo mi fa vedere dei calzini rossi di lana che ha acquistato in un negozio del centro a buon prezzo poi mi domanda se ho ricevuto la sua cartolina quale cartolina ti avevo mandato una cartolina per chiederti una sigaretta non l'hai ricevuta mi racconta che adesso col freddo è costretto ad andare a letto presto perché la mattina deve alzarsi tardi infine mi confida che sta cercando un'idea per un disegno umoristico sul marziano per la verità l'argomento è un pochino scaduto tutto è stato fatto mino maccari ne ha indovinato uno bellissimo sul mondo si vedono dei vecchi imperialisti fascisti in divisa che gridano o roma o marte bartoli vuol fare qualcosa di letterario non di politico gli suggerisco di tentare questo disegno il marziano che dalla terrazza del pincio guarda commosso il suo piccolo lontano pianeta natio non far ridere osserva bartoli non deve far ridere replico deve anzi commuovere bartoli non risponde e si parla d'altro bartoli non capirà mai il marziano 20 novembre il marziano sino ad oggi ha ricevuto circa 200.000 lettere un corpo di segretari è impegnato a leggerle sono per la più parte di inventori incompresi donne deluse bambini buoni in una lettera col timbro di catania hanno trovato una sola parola cornuto ma arrivano anche lettere nelle quali si chiede al marziano di agire presto e lo si rimprovera di perdere un tempo prezioso già la delusione serpeggia mario soldati che ho incontrato oggi in una libreria mi ha sussurrato all'orecchio tradimento ed è andato via curvo sotto il peso dei suoi pensieri come un congiurato che medita le dimissioni 27 novembre la scena che si è svolta l'altra sera alla cisterna in trastevere tra il marziano ubriaco e un popolare attore del cinema mi ha disgustato sembra che l'attore abbia insistito perché il marziano accettasse di mangiare certi spaghetti al suo tavolo naturalmente i fotografi non si sono lasciata sfuggire l'occasione di riprendere il marziano che ingolla spaghetti imboccato dall'attore i giornali del pomeriggio riportano le fotografie il senso dei volgari commenti è questo il marziano apprezza molto la cucina romana ed è contento di vivere a roma dove la vita è indubbiamente migliore che in ogni altra città del pianeta 28 novembre passo alla redazione del mondo per salutare gli amici viene il fotografo col pacco delle novità lo rimproverano perché porta molte fotografie col marziano sembra che pannunzio abbia deciso di non pubblicare più fotografie col marziano basta 2 dicembre mi telefono a f per invitarmi a un cocktail che da oggi in onore del marziano rispondo io imitando la voce della cameriera e dicendo che non sono in casa conoscere il marziano fra gente che vorrà caparrarselo chi per raccontargli come stanno veramente le cose in italia chi per invitarlo ad un altro cocktail chi per coinvolgerlo in un premio letterario mi sembra inutile 6 dicembre finalmente ho visto il marziano è stato ieri notte alle due in via veneto io e pierino accolti gil stavamo fumando silenziosi quando lo vedemmo venire in compagnia di due ragazze alte cavalline forse due ragazze di un balletto rideva e parlava in inglese smise di ridere quando ci passò accanto benché noi evitassimo di guardarlo all'altezza dell'edicola dei giornali in via lombardia il marziano si è incontrato con l'ex re farouk che passeggiava lentamente annoiato non si sono salutati l'ex re farouk cercava delle sigarette fece un gesto al vecchio che sta lì a venderle pronti rispose il vecchio e corse verso il suo cliente ci siamo avvicinati più tardi a due prostitute che stavano parlottando fra loro una diceva vieni col marziano e su vieni l'altra appariva nervosa e seccata io no vacci tu io col marziano non ci vado non ho capito se il suo rifiuto fosse dovuto a timore dell'ignoto o soltanto a malinteso nazionalismo 7 dicembre mi racconta ercole patti che il marziano invitato all'aeroporto di ciampino per accogliere una celebrità cinematografica è stato pregato dai fotografi di allontanarsi sembra infatti che la sua presenza in una fotografia ne pregiudichi la vendita presso le riviste illustrate a marziate scansi gli dicevano ridendo ma seccamente e il marziano buono sorridente senza capire bene ciò che gli veniva detto agitava la testa e le mani salutando 18 dicembre parlavamo delle cose italiane io e vittorio ivella l'altra sera quando ivella ha esposto la sua ipotesi non so perché mi ha molto divertito ha detto ma per quale ragione sarebbe dovuto scendere proprio qui io dico che non è venuto di proposito c'è cascato l'idea del marziano che è costretto ad un atterraggio di fortuna e si comporta come uno scopritore di mondi mi ha ripeto molto divertito tutta la sera non ho fatto che ridere pensandoci attilio riccio ferma invece che il marziano è un caso tipico di idolatria dell'ignoto e gli prevede che finirà linciato si dice anche e io lo noto a titolo di cronaca che il marziano si è innamorato di una ballerina che si fa desiderare e parla di lui in termini ignobili 20 dicembre oggi per la prima volta ho parlato col marziano mi trovavo a fregene e l'ho subito riconosciuto passeggiava sulla spiaggia piena di sole ma battuta dal vento guardava il mare e si fermava a raccogliere conchiglie qualcuna ne metteva in tasca poiché eravamo soli sulla spiaggia si è avvicinato per chiedermi un fiammifero ho fatto le viste di non riconoscerlo per non offenderlo con la mia curiosità e anche perché in quel momento desideravo star solo coi miei pensieri è stato lui a dirmi puntandosi un dito sul petto io marziano ho finto la sorpresa poi mi è balenata l'idea di intervistarlo pensavo di mettere giù un'intervista diversa dalle altre una cosa un po' letteraria per intenderci di spingerlo a considerazioni più vaste delle solite che la presenza del mare avrebbe forse giustificato se è vero quanto dice flaubert che il mare ispira i borghesi pensieri profondi poi la pigrizia mi ha frenato avrei dovuto far domande insistere spiegare no mi son detto contentiamoci di guardarlo da vicino la sua statura enorme mi ha sfavorevolmente colpito è troppo alto tanto da sembrare indifeso come certi anziani uomini del nord che mostrano un'età inferiore a quella che hanno realmente ma che nel loro fanciullesco sorriso svelano una esistenza trascorsa senza grandi dolori e lontana dal peccato cioè totalmente priva di interesse ai miei occhi l'ho invitato a bere qualcosa al bar ha chiesto un whisky e certo per ringraziarmi mi ha messo una mano sulla spalla sorridendo per un attimo soltanto fuggevole e lieve impressione ho avuto la certezza che fosse infelice 21 dicembre ieri sera in un caffè di via vereto ad un tavolo di giovani pederasti si parlava del marziano e così ad alta voce che non si poteva non sentire quel che dicevano sembra dunque che il marziano abbia stretto sodalizio con un giovane sconosciuto attore di cinematografo ma sembra anche che il marziano viva nella preoccupazione di apparire politicamente ortodosso agli occhi invisibili dei suoi complanetari i quali certamente lo sorvegliano coi mezzi che posseggono e che noi non sappiamo nemmeno immaginare forse dei microfoni radiocomandati tutte le ipotesi sono possibili dunque il marziano chiuso nella stanza del suo albergo col giovane attore dopo essersi a lungo dilettato si sarebbe levato in piedi e proprio con l'aria di chi intenda rivolgersi ad un visibile ascoltatore avrebbe detto ad alta voce scandendo bene le parole ma perché tu non vieni a vivere su marte paese della vera democrazia 22 dicembre il marziano ha accettato di fare una particina di marziano in un film che sarebbe diretto da roberto rossellini il quale si sta interessando affinché al finanziamento del film partecipi una società marziana mario soldati che ho visto oggi da rossetti mi ha parlato del nuovo libro che intende scrivere prima di cominciare il suo nuovo film è una storia che si svolge a torino nel 1932 era molto felice soldati raccontandomi la trama mi ha lasciato perché correva a farsi radere aveva fatto acquisti di papeteri l'ho visto sparire come una farfalla 6 gennaio le feste natalizie sono trascorse come al solito melanconicamente e fa caldo mi sono tardato un po stanotte in via veneto perché non avevo sonno ad un tavolo di rosati c'erano pannunzio libonati saragat barzini e altri giornalisti politici parlavano della proporzionale ad un altro tavolo il marziano assieme a mino guerrini talarico e accolti gil era evidente che lo stavano gentilmente prendendo in giro uno sguattero dava già la segatura sul pavimento e quando sono passato ho sentito accolti gil che diceva al marziano se viene a capri a pasqua le faccio conoscere mala parte grande ingegno più di levi profondo conoscitore questione centrale e settentrionale il marziano annuiva cortese e distratto poiché un cameriere poco urbanamente ha fatto capire che era ora di chiudere tutti si sono alzati anche il marziano è uscito e sulla porta ci ha salutato dirigendosi poi verso l'albergo excelsior seduto all'ultimo tavolo accanto alla pompa della benzina angolo via lombardia c'era farouk fischiettava guardando il cielo denso di nuvole rosa preso anche lui in un suo pensiero malinconico poggiati i gomiti sulla poltrona di vimini teneva le mani unite davanti alla bocca agitava piano le dita e fischiettava ma sommessamente come può fischiettare un re in esilio o un musulmano che si rappresenta l'idea del piacere due tavoli distante alcuni autisti di taxi discutevano di football e più giù il vecchio delle sigarette trotterellava aspettando di essere chiamato da qualcuno e questo un quadro a me così familiare che non manca mai di commuovermi e infatti ho sorriso pensando a questa dolce roma che mischia i destini più diversi in un giro materno e implacabile al quadro si è aggiunto il marziano che è passato davanti agli autisti e a farouk allegramente ignorandoli ma sporgendo un po il petto verso l'excelsior si è fermato ed è tornato sui suoi passi non aveva voglia di andare a dormire lo capivo bene la noia della notte la paura del letto l'orrore di una stanza nemica che respinge lo tenevano ora inchiodato davanti ad una vetrina di giocattoli ora davanti ad una vetrina di fiori sembra che su marte non crescano fiori così belli come da noi ha deciso infine di attraversare la strada e a questo punto nel grigio silenzio qualcuno ha gridato forte a marziano il marziano si è subito voltato ma ancora una volta il silenzio è stato rotto e stavolta da un suono lungo straziante plebeo il marziano è rimasto fermo e scrutava nel buio ma non c'era nessuno o meglio non si vedeva nessuno si è mosso per riprendere la sua passeggiata un suono ancora più forte multiplo fragoroso lo ha inchiodato sull'asfalto la notte sembrava squarciata da un concerto di diavoli ma scalzoni ha gridato il marziano gli è risposto una salve di suoni prolungata scoppiettante come un atroce fuoco d'artificio che si è poi spenta in una corona di abili fiorettature solo quando il marziano ha potuto confondersi nella piccola folla che stazionava davanti al caffè strega abbiamo potuto dedurre che i giovinastri erano in folto gruppo nascosti dietro l'edicola di giornali di via boncompagni più tardi tornando a casa ho visto kunt che si dirigeva solo a lunghi passi morbidi verso villa borghese sopra le chiome dei pini brillava il rosso puntino di marte quasi solitario nel cielo kunt si è fermato a guardarlo si parla infatti di una sua prossima partenza sempre se riuscirà a riavere l'aeronave che gli albergatori hanno fatto si dice pignorare ciao ciao Grazie.